Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio primo video. In questo canale, come ho scritto nelle informazioni, farò video di strategia. Questo è uno di quelli che preferisco della serie dei Total War, è Napoleon. Incentrato sulle campagne, le battaglie, insomma, di Napoleone Bonaparte. Io la campagna l'ho già fatta, quindi non vorrei rifarla di nuovo. Anche perché non ti dà molta possibilità, hai solo una fazione, puoi scegliere solo di essere la Francia, quindi preferisco fare delle simulazioni. Infatti disputerò una battaglia via terra. Lo facciamo sui prati. Allora, vorrei essere la Francia contro l'Inghilterra, quindi prendiamo le truppe migliori dell'impero, tra cui ovviamente mettiamo come generale il Napoleon e i razzi. Ho scoperto che esistevano i razzi a quel tempo. Già delle specie di lanciarazzi però un po' primitivi, diciamo. Non si possono mettere più di tanti, infatti dopo un po' non posso più metterli. Quindi mi metterei la Fanteria, la Vecchia Guardia, l'Elite e i Calabinieri. Perfetto. E anche un altro bel po' di Cavalleria. Non si può più. Ok, così, perfetto. Mettiamo invece... La Gran Bretagna voglio proprio distruggerli, quindi lasciamogli solo un po' di... Praticamente niente, gli lasciamo... Vediamo che generale intanto. Duca di Wellington. Perfetto. La Milizia, la Fanteria normale. Bene. Ha un po' meno che... E... E basta direi. Anche un po' di Scolzesi e poi basta. Bene. Iniziamo subito. Bene, iniziamo subito. E... E... Eccoli là. Allora... Qualcuno si muove già, ho visto. Perché? Si muovono già. Vediamo dov'è il Duca di Wellington. Deve essere lui. Eccolo qua. Partiamo subito con i Razzi. Attaccate. Allora, questo attacca questo. Questo attacca il generale. Questo attacca questo. E questo... Questo qua. Perfetto. Iniziamo. Oh, eccoli qua. Oddio. Al ralentatore. Vediamo. Oh, oh, oh. Oh. Non preoccupatevi. Sono solo fuochi d'artificio. Oh, oh, oh. Oh, oh. Il generale loro. Oh, già morto qualcuno. Non è morto il Duca di Wellington. Eccolo qua. Questo è il Duca di Wellington. Vediamo se... Lui tutto calmo. Così. Eh, non credo che fra poco lo sarà ancora. Oh. Dai. Un'altra carica di Razzi, dai. Madonna. Fa paura da... Da... Oddio. Vediamo. C'è, loro tutti calmi, dai. Vabbè. 16 su 18, bene. Stanno già morendo qualcuno. Adesso. 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 Se non muore, adesso... Eccolo qua. Vediamo un po'. Se... Gli arriva addosso. Cosa sta facendo sto? Vabbè. Dai. No, è morto. Ok. Lui... Va avanti, ovviamente, il genio. Continua ad andare avanti, no? E poi anche con calma, no? Sì. Vabbè, non credo che Luca di Wellington fosse così stupido. Mh, mh. Mh, mh. Ok. Santo cielo. Niente male come Armist Qua però dopo un po' vorrei attaccare Con la cavalleria una bella carica Il duca è ancora vivo Che cavolo No a sto punto direi Attaccate tutti il duca Madonna santa Il duca No è ancora vivo Ma come è possibile Ma è mortale Cioè Su 4 aveva la possibilità Cioè aveva una possibilità Di 4 su 18 Di essere ucciso Invece non è stato ucciso Ma che fortuna Adesso è il suo turno Madonna Allora No è ancora vivo Ah No è fuggito Sta fuggendo Ok ordino a tutti di attaccare Ordino a tutti Adesso guarda Prendiamo un bel po' di cavalleria E 1 2 3 Attaccati tutti Qua Ah Olle Vai No 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 Oddio Stanno per No Così muoiono anche i miei soldati Ah Ho fatto un casino Fermi Fermi tutti No 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 Vabbè Ancora Ancora No Tu Attacca questi Un casino Ancora No No Non No No Ti No 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 oh ma quanto resistono sono bravi questi qua bravi gli inglesi anche se scappano però hanno resistito bene e adesso rimangono solo loro tutti attaccati perché vittoria di già no mi stavo divertendo continuiamo no si attaccate qua ai qui si spacca anche la casa però vabbè la battaglia è vinta quindi posso fermarmi vabbè oggi avete visto la potenza dei razzi primitivi quindi direi che oggi potrebbe bastare ci vediamo un prossimo video ciao